Un'aggressione e ripetuti maltrattamenti alla compagna, arrestato dalla polizia a un comasco di 38 anni, residente a Plisio. Nella giornata di ieri, gli agenti della squadra mobile della Questura di Como hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal Tribunale di Como. Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima. La donna che ha denunciato le violenze è la ex convivente del 38enne. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, l'uomo avrebbe ripetutamente maltrattato la compagna. In almeno un'occasione la vittima sarebbe stata aggredita e picchiata al punto da dover ricorrere alle cure mediche e al pronto soccorso. Le violenze sarebbero avvenute nell'abitazione di Lipomo, nella quale la coppia viveva, e sarebbero proseguite fino al mese di ottobre dell'anno scorso. I poliziotti hanno rintracciato il 38enne in una struttura a Como, dove stava seguendo un percorso di recupero della dipendenza da alcol e droga. È stato portato in carcere al Bassone, come previsto dall'ordinanza del Tribunale.